Il Comune autorizza l'accensione anticipata dei termosifoni dopo l'ondara di maltempo che è interessato i primi due giorni di questa settimana, ma le temperature, soprattutto la mattina presto e il pomeriggio, non sono alte. A stabilirlo è un'ordinanza emessa da Sindaco, Anna Maria Casini, che dispone, per motivi evidenti di interesse pubblico, l'accensione anticipata degli impianti pubblici e privati di riscaldamento, nella misura massima di 6 ore giornaliere, secondo le esigenze degli interessati, dal giorno 28 ottobre e quindi da domani. Sul Monari entra nella cosiddetta zona D, in cui il periodo di accensione degli impianti va dal 1 novembre al 15 aprile per 12 ore giornaliere. Il DPR 412 del 1993, Facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, prevede una deroga e consente ai sindaci di empleare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizi e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili.